Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella ventiduesima puntata della serie su Far Miss Motor 2 Miele Attifici Come vedete sono appena uscito dal concessionario e praticamente mi ha detto che il nostro Deutz ce l'ha rimesso dove era ed è praticamente pronto, possiamo di nuovo usarlo Ecco Eccolo qua Finalmente Mi mancava Ok, possiamo riportarci a un farm, anche perchè un trattore ci serviva, perchè adesso stavo facendo fatica ad andare con due trattori e mezzo diciamo Perchè di sé è poco potente, fa fatica a tirare qualsiasi cosa Quindi ci mettevo soprattutto l'operaio a seminare Magari concimavo cose leggere E finalmente adesso abbiamo questo E si può fare qualcosina di più svento Allora, giusto prima di cominciare E volevo dirvi che abbiamo superato i 500.000 litri Di mezzo milione di litri di mais e di frumento nei silos, come vedete Siamo a 505.000 di mais che ho fatto Qui, allora ho fatto tutto il campo Eh, 24 di mais, il 29 Ah, giusto che dovevo farlo, non l'ho più fatto Eh, comunque ci sta Il 29 che ho fatto colza, il 24 che ho fatto mais, proprio mais Poi ci sono il 23 e il 27 di orzo, che è quello che ne abbiamo meno Forse ho esagerato un po' per le tutte e due, che sono i due campi più grandi che abbiamo Eh, volevo fare uno solo e ero nella mente ne ho fatti due Perché l'altro volevo farlo di colza E ho fatto tutte e due Ozzo Comunque il 38 stavolta l'abbiamo lasciato così Perché non si è nimenticato Eh, vi dico proprio la verità Ero convinto perché c'era la paglia forse Ero convinto di averlo fatto E invece adesso vedo che non è stato fatto Sono appena adesso venuto da un'altra viatura di questi due campi 24 e 29 Oh, finalmente Ok Come vedete ho lavato tutti i mezzi più o meno Tranneva delle forze che non ci ho pensato Qua vedete il trinciaceppi Eh, poi vi spiego dopo Questa qui l'ho messa al lavoro 26 sta iniziando già a sforcarsi un pochettino Perché l'ho messo subito a seminario 23 Se non erro Devo fare crescere Sì, infatti Ho messo a seminario 23 Appena ho aperto la carriera Cioè, appena ho aperto la partita In cui non ho finito in una maniera impressionante E ho fatto Ozzo, ecco E ho sbagliato Ho lavato tutto E, vabbè, tranne magari l'imballatrice e questo Che erano puliti Ho comprato qui il vario master Già che era in offerta Scusate ragazzi che Vado a bagnarmi l'occhio intorno Perché se no qua non faccio più niente Ok, ecco fatto Eh, stavo dicendo Ah, sì, che ho lavato tutto Ho messo a seminare E basta Poi ho fatto Un sacco Questo tutto dietro le quinte Ho fatto un sacco di cippato Ah, vi dicevo del tricio scepili Che dopo andremo a vedere Per cosa lo useremo Ho fatto un sacco di cippato Come vede siamo a 150 No, 200 di mila più o meno Non erro 281 mila Perché adesso vi faccio vedere cosa ci fatto Allora Vabbè, andiamo veloci Che almeno vi faccio vedere tutto in un secondo Eh, sì Questa puntata un po' ho reso conto della situazione Perché un po' mi è stato impossibilitato a registrare Quindi Ho fatto tanto off camera Allora, ho falciato questo campo E l'ho dato Quello che ci stava Alle pecore Intanto ho aumentato le galline Adesso sono a 250 Pecore sempre 51 E questo è 25 Dovremmo aumentare anche le pecore Poi, ma Bisogna fare tanta erba E Poi però ho visto che Qua c'erano tipo 10 alberi Se non erro Sono 10 Che mi davano fastidio Allora l'ho tirato giù tutti E sono venuto qua T6 Cipatrice JCB Con il carro E le CV di Manipu Eh, no Il Bobcat Io lo chiamo così Per far prima E E ho fatto basso questi alberi E ho fatto un carro dissipato Più o meno Al 98% Poi ho preso L'aratro Ho fatto qua Una linea dritta Fino qua Ho fatto con la GPS mod Fino qua Mi sembra più o meno Qua E ho seminato Tutta erba Ho fatto con la O Vedete C'è ancora qualche Piccolino Che forse andrebbe giustato Qui con il coltivatore Andrebbe tolta Quest'erbo Con l'aratro Magari Eh, perché non sta molto bene Ma fa niente Eh Come vedete c'è anche qua Ho fatto anche quel da Giants male Per cui Eh, ok Poi Ho portato Siamo così per fatti Sì, proprio questo Ho portato Ho imballato Ancora Eh, due campi Se non erano Uno Un campo Imballato Il 23 Vedere E perché ho fatto tipo trebbiatura di massa E ho portato le balle Adesso vi farò vedere Ok, abbiamo fatto un sacco di balle Ho fatto il secondo strato O il terzo Oh, penso un secondo No, ho iniziato il terzo strato No, ho iniziato il terzo strato Come vedete Sono Eh, sei per Quattro Otto Sei per Allora, queste sono sei Sei per sei 36 Sei per set Sei per otto Sei per nove Allora, uno Due Tre, quattro Cinque, sei Sette, otto, nove Dieci, unici Sei per unici Dovrebbe essere Sessantasei Valle Sono Perché Dovrei averne fatto Tantacinque Come vedete Dalle statistiche Tantacinque Ma Ma perché Mi posso Se ne ho fatto In un'unica In un'unica In un'unica Infatti Come potremmo usare Questo Lei Qua Dalle mucche Adesso Ho fatto Ho mandato avanti Il tempo Per C'era la roba Quindi Ho riempito Tutto Adesso Questo È al 98 Questo pure Questo Forse Un po' meno Adesso Non ricordo Sì 97 97 99 E Paglio Ho buttato Tutto qui dentro Come ho fatto Ho fatto Già vedere Qui ho sistemato Un po' I cosi Le mucche Vanno bene Perché Gli ho dato O sono Praticamente Piene Ci manca Solo un po' Di Lazione Mi stessi Lato Ma poi ce la daremo Ci vuole poco Con Il t6 Ho svuotato qui la vasca Come vedete il 0% Qui invece siamo Sempre 0% Per la 3000 Poi Eh lo fate di cose ragazzi Qui Ho parcheggiato lì la zunhammer E ho preso un po' di liquoro Ancora di qua Adesso sembra il 17% Sta finendo Poi stiamo Quindi dovremmo fare Un po' di misilato Ehm La ruspa se la vedete Spostata ogni episodio Perché mi ribalto Con il carro delle balle La zunhammer è piena Come vedete Ma Qui ci sta ancora 140.000 18 Più o meno 7-8 Botti Ci stanno Sono lì dentro Quindi non bisogna troppo Esagerare con liquame Ehm Quasi finito Intanto mi ero presco Per 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 toglierlo Per tenerne due Un po' così E ho preso Qua mi sono già preparato Per il cosplay Qui Mi mandavo avanti il tempo Ho fatto un disastro Qui ho fatto tutto Con la botte Ehm Qua Vedete Ho di nuovo Disboscato E qua Ho fatto la maggior parte Deci fatto Ho fatto 3 carri Due e mezzo Se non erro Ehm Ehm E praticamente Ho fatto cipato Con gli alberi interi Adesso in teore Ci sono ancora i circo Sì E verremo a togliere Assieme Sempre che Vabbè Comunque sto è facile Vederle però Meno male Che c'è Allora Ci portiamo giù Che mi faccio Intanto vedere Allora Vabbè Le funzioni speciali Non ne ha Ha questi qui Su V Con il vaso Orientabile Quindi non ci serve Abbassare questo Basta Facciamo così E' praticamente ok Io prima legisero Era così Muovevo solo questo E questo Non sapevo C'era anche questo Ok Ci portiamo qua Ok Vediamo Il primo è questo Più o meno Vediamo In una modalità decente Quinta Così Ecco Ecco Ehm C'è pilare Ho giustato Anche per testare Un po' Come funzionava Se comprate questo Ho comprato Questo perché Mi sembra più comodo Nel trattore E poi avendo già questo Ehm Ci è costato 500 ore E meno Non mi interessano 500 euro Dato che Quello Che Certe volte Non sembra Nel che ti diri Tipo Non so Se ci fate caso Ehm Quello di base Ce l'hanno tutti Tutto qui Almeno Una cosa un po' Un po' Speciale Che Se volete Vederlo Cioè È una cosa Non così Comune Diciamo Ho notato Sì che certe volte Fa un po' Tutto a tagliare Quasi Tutto Cioè È già Seconda e terza Volta Che mi capita Bisogna Dopo Passare Due E Poi qua Ecco Mi sembra Neve 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 Un altro Eh Quindi Quindi Non è che c'è molto da dire Perché adesso È un po' che non registro Quindi Non so Non so Quanto Troppo Sono E Come Se non sapete Come mettere Questo Questo E Questo E Questo Tutte cose Interessanti Cioè Servono Va bene Per me Sono ultimi Eh Basta che andate vedere Il mio video tutorial Che si intitola Come vedere Le collision Su parmi Soprattutto 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 Oppure Deppac Comunque Cercate i tutorial Vi escono Tutorial Copatto E E E Sicuramente Questo Comunque Basta andare Su Sul game XML Del gioco Sul file Game La cartella My Games Farm Simulator 2015 Game Dovete cambiare L'ultima La penultima Riga Cioè Development Dovete mettere Che sarebbe Modellità Un sviluppatore Dovete mettere True Invece che False Come c'è Il mio post Guarda qua Come l'ho Tagliato Ah Non l'ho troppa Mica Via Sì Soprere 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 Vediamo Eh dai Cosa ti costa Soprere 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 Ok Poi abbiamo Qua No Soprere Scusate Per no Questo Dovevo dire Che funziona Molto bene E' anche Molto comodo Si gira Molto bene Perché Seguo Così Perché Qui su farming Qui su farming Praticamente Non esiste Vedete Noi abbiamo le ruote Che praticamente Fanno Questo gioco Qua Praticamente Girano In questo modo Qua Per questo Che Gira Stesso Vedete Adesso Basta Se Mi faccio Comentare Ok Ci sono Solo Qui L'album Peccato Per quello Devo Porto Castiglio No Fa niente Qui non so Se Aranda Dire il vero Viene Poi Inseminando L'erba Viene Erba Non è Che mi Piaccia Molto Vedere Questa Terra Così Lasciata Così Anche Se Ma Diciamo Non è Che mi Vado Giamo Pugnani Pagano Pagano vabbè poi c'è questo penultimo poi vi dico che ho in mente tra poco di fare iniziare con la legna normale perché ci parte ci vuole un bel po' di tempo e ea me porta via a me porta via molto molto tempo a me porta via molto molto tempo a me so che c'è anche l'aui che è molto bello no chi diciamo per chi è riduce dal dal 2013 sicuramente lo conosce quello che hanno avuto come ultimo attrezzo in forse ok perfetto allora cosa fare oggi allora oggi c'è da trebbiare i campi se no se no c'è da spandere liquame se no c'è da coltivare vedrai che prima ah questo mi sono dimenticato di lavarla peccato questo lo vedete un po' girato perchè tipo ci sono arrivato contro quel trattore allora mettiamo a coltivare prendiamo l'infasto andiamo l'infasto andiamo l'infasto va piani e ormai il t6 ragazzi si usa poco adesso volevo comprarmi un altro trattore da tenere qui in farm vi faccio vedere un po' ero indeciso come trattori da tenere in farm perchè il t6 vorrei tenerlo fisso dalle pecore dalle mucche scusate perchè mi serve ogni volta andare avanti e indietra potremmo fare mmmm stavo pensando o il puma 160 che ha 203 cavalli però io lo considererei sempre come un 160 cavalli e quindi ok o se no il fame che è già un bel trattore e io sto soprattutto pensando che non sarebbe niente ma quindi penso poi in futuro compreremo quello ma molto futuro perchè prima c'è cambieremo un carro e quello più piccolino lì dietro che magari in questa puntata già andiamo a venderlo va bene l'hanno già interrotto però ehi ma che cavolo non non chiuderti ok mettiamo qua a cultivare se ce la faccio ho raccolto un po' di uova adesso siamo circa sulle 300 uova che abbiamo carico e niente adesso posso farmi insieme a di darsi una svegliata noi ci prendiamo il nostro t6 ok ok ci prendiamo la tavola qua agganciamo il nostro bel pen tutto il frontale lì ho comprato la pinta per la legna scusate scusate perchè mi serviva eh faccio prima con questo che con il 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 col sinceramente con il con il 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 jcb l'a eh l'epo il skid di il il i i 4.6 questo carro ah perchè non arrivavo sotto la 3 è vero ok prendiamo un po' di scorciatoia perchè il viro puntato sennò dura secoli già siamo a 17 minuti non ciò ok vendiamo qua non faremo già il cambio adesso perchè non ci interessa subito ma vi faccio vedere un po' la nutrizione delle nostre mucche e poi chiudiamo la puntata mi dispiace ve la faccio un po' più lunghetta ci metterò probabilmente qualche ora di più a caricarlo perchè qua per 10 minuti si parla di ore no anzio che 10 minuti per ogni minuto siamo a delle mezz'ora ogni minuto di video una mezz'ora a caricare quanto vuoi quanto impegno ci metto a farvi video per questo vi faccio video corti a me piacerebbe farvi video da 20 minuti 30 di più no perchè poi sono pesanti da guardare perchè non mi prende il misilato non me lo prende più il misilato adesso ho fatto trascorrere un giorno lo dovrebbe prenderlo non me lo prende io non so se non va buttato ah magari perché lì non lo potete come se lo potete nella palia devo buttarlo un po' qui qua magari può essere tipo dovrei buttarlo qui qui te me lo prende aspetta fammi vedere che è un po' sprecato misilato 22.516 non so non capisco questa interia è la maggiore del misilato ma poi oltretutto l'ho fatto il test non ho buttato niente misilato scarica scarica grazie andiamo a darci ancora un po' carattina mista che ne dovrebbe servirne tanta pronti dame ok basta ho già preso un quintale 2 quintali 3 quintali diciamo che l'ho presa troppo Siamo a 23.000 Non so se il sillato non me lo prende Perché per come si è pieno Ora te l'ha giunto Ora non ci sono più Ora ci sono Ok Ci prendiamo un pochino di paglia Che magari ci va adatta Adesso penso che faremo O me lo faccio io Magari ogni tanto faremo Un tante alimentazione e muc Ok Già andato Vi ho già spiegato Ho fatto anche il video Se non sbaglio era la ventimese Mi ho contato ventesima No ventunesima in teoria Vi faccio vedere a cosa mi serve Il caro miscelatore per la paglia E' la mission station Il 17.000 Se lo vedo No Non so Non mi sono sicuro Ok 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 La lasciamo qui Il T6 Per adesso in farm Non ci serve più C'è abbiamo là Il nuovo Deus Il marcione No Io lo chiamo marcione No perché Semplicemente Non mi piace Non mi piace Ma però Dai Mi serve un trattore Di media potenza Lì Il macchino Tirava C'aveva 60 Asini Invece che 220 Cavalli O 230 Mi viene il rubio No 220 Sì 220 E E E Allora ho comprato Il Deus Ma Proprio Non mi piace Adesso Poi C'è da fare Anche Un Un acquisto Nuovo Perché ci serve Un trattore Da portare In giro Le cose Per esempio Dobbiamo Portare Fare Magari Trasporti Un trattorino Bello Magari Un tralsame Magari Giusto Da portare La barra Da trebbia Sui Cento Cavalli Così Che per chi Non Avesse capito Sarebbe Il nitro Che mi piace Da Un sacco Con il trattore Guardate Che bello Mi piace Troppo Comprano Abbastanza Soldi Io Chiudo Questa Qua Io Chiudo Qua Questa Puntata Perché Se no Mi viene Venti Secoli Adesso Aspettatevi Che in questi Prossimi Episodi Faremo Qualche Albero Che ci Da fastidio Tipo Adesso Non so Ma Sicuramente Qua Ce n'erano Uno Due Vedete Questi Tre Magari Anche Questi Qua Magari Si fa Tutto E Da Dere Tutto Ciao Tutti